Alle mie spalle il cantiere infinito, ovvero quelli di manutenzione straordinaria del canale Mortillaro. Questo intoppo su Viale Regione Siciliana crea lunghe code lungo l'asse di circonvallazione. A quanto pare è stato trovato un altro canale e quindi la ditta paltatrice non potrà continuare i lavori fin quando non verranno stanziati i nuovi fondi per completare i lavori. I lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del canale Mortillaro stanno creando non pochi disagi alla circolazione veicolare sulla circonvallazione di Palermo. Si tratta di interventi iniziati poco dopo la scorsa estate e destinati a concludersi entro qualche mese. Durante gli scavi però sono stati rinvenuti ulteriori problemi strutturali in un canale decente, il passo di Rigano. I lavori pertanto sono fermi in attesa di perfezionare e finanziare la variante che consentirà di intervenire anche in questa struttura. Occorre considerare che agli attuali interventi che interessano la carreggiata di Valle seguiranno quelli analoghi sulla carreggiata di Monte. Pertanto la circonvallazione è destinata a rimanere utilizzata parzialmente ancora per molto tempo. Un'ultima considerazione. A causa di questi lavori rimane bloccato anche il rifacimento della segnaletica stradale nel tratto di circonvallazione compreso tra via Auditore e via Belgio, dove l'intervento è atteso da circa due anni.